Tanti furti consumati ultimamente nei negozi, gallerie e centri commerciali dell'Aquilano, così gli esercenti tramite Confcommercio hanno preso carta e penna scrivendo al prefetto, portavoce delle istanze Angelo Liberati di Fida Confcommercio che chiede a gran voce un incontro con la Torraco. I numeri sono impietosi, furti incidono dall'1,4% all'1,9% sul totale del fatturato e non si parla di furtarelli ma di vere e proprie bande formate anche da donne minori che vengono da fuori città. Molti negozi si sono attrezzati già con un sistema di videosorveglianza ma evidentemente non basta, i commercianti hanno richieste ben precisi al prefetto. Ribadiamo delle soluzioni che possono stare perché noi abbiamo investito e investiremo ancora con la videosorveglianza però richiediamo dei controlli, dei controlli dove nella periferia può essere seguito dalla semplice pattuglia che gira e si fa vedere che è attivo perché il nostro territorio può essere chiuso abbastanza perché non è molto allargato nel senso organizzativo per le forze dell'ordine però il ripristino della guardia è una guardia di quartiere. Quello che noi avevamo prima del terremoto dove c'erano queste persone ufficiali che poteva essere il corpo dei carabinieri, corpo della polizia, finanza dove in divisa girare per illustrare quello che c'è soprattutto il centro storico, chiedere se ci sono dei movimenti sospetti, chiedere come va e già la percezione di vedere una persona indivisa è praticamente un dissuadere da qualcuno che viene da fuori con altri fini.